in particolare a neurismi e angiomi cerebrali e poi c'è tutto il grande capitolo della patologia cosiddetta degenerativa vertebrale, quindi ernie discali, stendoli del canale vertebrale, mielopatie, oltre alla patologia traumatica cranica e spinale che purtroppo, uso il termine piove ogni giorno sul nostro reparto ad ogni ora del giorno e della notte. Quindi è una disciplina vastissima, molto varia, molto impegnativa che richiede il supporto di altre unità operative come in particolare la neurologia, in particolare la neuroradiologia, la neuroreanimazione, la neuroanestesia e quindi è un vero settore multidisciplinare. È cambiata però nel tempo, anche perché avete delle strumentazioni diverse, lavorate con il 3D, la robotica, quindi si è evoluta nel tempo, professore? Sicuramente la tecnologia ha creato e ha dato un grosso impulso e aiuto al neurochirurgo, anche se poi la chirurgia rimane sempre un'attività, un'attività diciamo, tra virgolette, artigianale legata all'esperienza e alla manualità del chirurgo. Ecco, poi vorrei parlare prima anche di tumori. C'è un aumento esponenziale di tumori, soprattutto al cervello. Ecco, si parla del 2,6% del totale di decessi oncologici, quindi insomma c'è da preoccuparsi. È un grande settore che impegna la neurochirurgia. Noi a Padova operiamo circa 350-400 tumori all'anno, quindi più di uno al giorno. La patologia oncologica è una patologia che richiede conoscenze, conoscenze anatomiche e funzionali e che richiede anche molta tecnologia. Diciamo che negli ultimi dieci anni c'è stata un po' una rivoluzione, sia culturale che tecnologica, nel mondo della neurooncologia. Oggi su certe forme di tumore sappiamo molto di più, conosciamo molto meglio la loro storia naturale e questo ha cambiato un po' l'approccio nei confronti di questa patologia, cercando di spingere la resezione, cioè l'asportazione chirurgica, verso sempre più la radicalità, nel rispetto però di quelle che sono le funzioni e gli esiti neurologici, cioè la qualità di vita del paziente. Ed è proprio questo delicato e quasi ossessivo bilancio che dobbiamo cercare di fare ogni giorno nei confronti di ogni singolo caso, che è la sfida più importante nella quale la tecnologia ci ha dato un ottimo aiuto. Prima di vedere le slide, professore, pensavo per esempio a Nadia Toffa, giovane giornalista delle Iene, mancata qualche anno fa, ha rattristato un po' tutta la popolazione, perché è una ragazza così giovane. Ecco, non è possibile, tipo facciamo lo screening, diciamo le mammografie, eccetera, ma uno screening proprio per il discorso tumore al cervello, eccetera. Non è mai stato pensato di fare una volta all'anno, non so, un attacco, una risonanza magnetica. Si potrebbe fare qualcosa di, diciamo, prevenzione in qualche maniera su questo fronte? Purtroppo in questo settore è molto difficile effettuare uno screening, anche perché certi tipi di lesioni si possono, anzi direi tutte le lesioni, si possono diagnosticare solo attraverso degli esami di alta complessità e quindi è un... Costituerebbe anche troppo al nostro sistema sanitario. Direi che non è fattibile uno screening di massa in questo senso. Perfetto. Vediamo allora le slide, direi, professore, lei ci ha portato delle bellissime slide. Sono alcune slide che fanno vedere un po' qual è lo stato della tecnologia in sala operatoria. In questa slide voi vedete sulla sinistra il neuronavigatore, che è uno strumento che ci consente di sapere esattamente dove è localizzata una lesione, soprattutto le lesioni che non affiorano in superficie ma che sono profonde, di quali sono i limiti di questa lesione e soprattutto, se vediamo poi la diapositiva successiva, di importare nel neuronavigatore le immagini di trattografia. La trattografia è una risonanza magnetica che consente di visualizzare i fasci di connessione sottocorticale, che noi anatomicamente non possiamo vedere perché la sostanza bianca che sta sotto la corteccia cerebrale è tutta delle stesse caratteristiche macroscopiche, ma questi fasci di connessione che collegano le varie aree cerebrali che sono coinvolte in una determinata funzione sono estremamente importanti. E questo ci ha permesso anche di conoscere molto di più sull'organizzazione, sul network cerebrale e soprattutto anche sulla sua plasticità, ovvero la capacità di sopperire ad un danno cerebrale. Perfetto. Invece, professor Landi, per quanto riguarda la sua specifica neurochirurgia funzionale, da dove vogliamo partire per spiegare bene a casa? Di cosa lei si occupa nello specifico? Vediamo un po'. Sentiamo. La neurochirurgia funzionale è una branca, diciamo, della neurochirurgia che si occupa di una serie di patologie che colpiscono il sistema nervoso centrale sulle quali si può intervenire con diverse metodiche neurochirurgiche per modificare delle funzioni alterate appunto del nostro sistema nervoso centrale. Un esempio classico possono essere i disturbi del movimento, la malattia di Parkinson che tutti purtroppo conosciamo molto bene, oppure l'epilessia. Ecco, questi sono i due grandi campi di azione della neurochirurgia funzionale. Poi può essere utilizzata anche in altri ambiti con delle indicazioni un pochino più ristrette, eccetera. Quindi è una branca particolare della neurochirurgia che utilizza anche delle tecniche molto particolari e se volete poi dopo ne parliamo. Certo, anche lei ci ha portato delle slide che sono importanti da vedere perché vanno a specificare proprio quello che lei dirà. Professore, però ci sono anche delle malformazioni vascolari. Voi vi occupate anche di quelle? Certo, è un altro grosso capitolo della neurochirurgia. Le malformazioni vascolari sono costituite soprattutto dagli aneurismi e dagli angiomi cerebrali. L'aneurisma che cos'è? Faccio vedere con una slide che spiega molto meglio forse delle mie parole. L'aneurisma è una dilatazione sacculare della parete di un'arteria ed è un punto di debolezza della parete arteriosa per cui si può rompere, come vedete, in questo piccolo riquadro oppure può rimanere anche intatto e quindi essere riscontrato occasionalmente. L'aneurisma rotto certamente va operato immediatamente. Sull'aneurisma intatto ormai ci sono delle linee guida molto chiare per cui con determinati parametri di età, di familiarità per emorragie subarachnoidee ed altri fattori quindi anche l'aneurisma intatto viene operato proprio allo scopo di prevenire una eventuale emorragia. I trattamenti possono essere di due tipi. Uno endovascolare che fa il neuroradiologo e consiste nell'andare ad occludere, a riempire la sacca neurismatica dall'interno del lume vascolare con delle spirali dette coils oppure ci sono dei dispositivi detti stent sempre intraluminali, cioè intraarteriosi oppure la chirurgia diretta che è quella del clippaggio dell'aneurisma vale a dire si deve mettere una clip che va a escludere sul colletto l'aneurisma e l'aneurisma così è definitivamente spento e definitivamente escluso. Poi ci sono delle tecniche anche che lei ha fatto, che ha gestito anche in quel di Trento come primissima volta credo e poi ha portato qui a Padova. Ci vuole parlare perché mi hanno parlato anche i media di questa cosa. Io ho semplicemente trasferito l'esperienza della Ewakes surgery, cioè della chirurgia a paziente sveglio che viene fatta in tantissimi centri e che ha trovato un notevole sviluppo negli ultimi anni per l'asportazione dei gliomi cerebrali, soprattutto quelli a basso grado, in aree critiche dove il chirurgo cerca, come dicevo prima, di spingere l'asportazione in maniera più radicale possibile senza creare deficit neurologici, quindi rispetto della qualità di vita del patente. Questa procedura che prevede il risveglio intraoperatorio del paziente io l'ho trasferita nella chirurgia degli aneurismi intatti, dove noi ci prendiamo, ci assumiamo la responsabilità di operare persone che non hanno avuto nulla, le esponiamo ad un discreto rischio e per, diciamo, essere certi che la procedura non abbia creato dei problemi, dei deficit, l'awake surgery può essere una, in certe situazioni, non in tutti i pazienti, di aiuto. Questo è un cappello. Noi abbiamo... Questo è un tamburo. Stiamo sentendo la signora. Io qui avevo già esposto l'aneurisma, avevo già fatto tutte le mie considerazioni sul tipo di clip e dopo vado a clipare l'aneurisma con la paziente che è sveglia. Questa è la fase di clipaggio per cui non le viene chiesto di fare nessuno sforzo, ma immediatamente dopo il clipaggio controlliamo con una videoangiografia intraoperatoria, che è un'altra tecnologia importantissima che ci consente di vedere subito se abbiamo chiuso l'aneurisma e rispettato le arterie e la paziente continua a denominare gli oggetti. Questo è un leone. Io pungo l'aneurisma, l'aneurisma è già clippato e quindi questa è la prova definitiva che questo aneurisma è finito, la signora è guarita, non ha più il rischio di avere un'emorragia e poi nella fase finale la paziente viene, continua a fare determinati compiti e poi viene sedata per la fase di chiusura. È stupendo, quello che stiamo vedendo adesso non sembra vero, cioè la paziente parla mentre viene operata, cioè è una cosa impensabile qualche anno fa. Il merito di questo non è del chirurgo ma è dell'equip anestesiologica che consente al chirurgo di portare avanti a termine il suo intervento chirurgico, ma alla paziente di sopportare con assoluto comfort la procedura chirurgica in totale assenza di dolore, di analgesia, di ansia e in totale relax. Possiamo dire che siete anche un'eccellenza, si parla tanto del settore sanitario, quando si vedono queste cose è importante, penso che si capisca anche a casa il lavoro che c'è dietro, lo staff e tutto quello, la direzione dell'azienda ospedaliera, quanto si spende per i nostri telespettatori, per i nostri pazienti, è un fiore all'occhiello penso anche al vostro reparto, è importante che arrivi a casa anche questo, tutto il lavoro che c'è dietro, quando vediamo queste cose c'è veramente da applaudire per me. Ripeto che è un lavoro di squadra, non è un lavoro di uno solo, anche se poi alla fine le mani che mettono la clip sull'aneurisma sono quelle di una persona sola, non è una chirurgia a quattro mani, è una chirurgia di queste sei dita delle mani. Volevo chiedere al professore, però ecco, neurochirurghi ci saranno un domani, perché c'è anche un rischio nell'operare, ecco, i ragazzi di oggi, i futuri medici, c'è ancora la voglia di mettere le mani, di andare ad operare, oppure scelgono altre specialità nel campo medico, come sarà il prossimo in divenire? Ecco, parlavo con Cillo, il professor Cillo quando venne appunto e si parlava di futuri medici, diceva, scarseggiano adesso un pochino, ecco, per quanto riguarda l'ambito appunto del fegato. Per quanto vi riguarda? Allora, è sicuramente più difficile rispetto a quando io avevo iniziato questa meravigliosa professione, perché si è spostata in avanti, diciamo, l'età di inserimento nel mondo del lavoro, è diventato più difficile perché c'è molta più, insomma, attenzione da parte dei pazienti, di tutti al buon esito di un intervento chirurgico, però un giovane medico laureato che ha il desiderio di sposare questa attività, credo che, se veramente dentro di sé ha la voglia, non abbia poi problemi per proseguire. L'importante però, la principale caratteristica che io valuto in un giovane medico è la sua educazione, cioè qui noi abbiamo a che fare con la salute dei pazienti, dobbiamo avere quindi il massimo rispetto, non è che si possa provare sulla pelle dei pazienti, quindi il giovane medico deve sapere che prima cosa deve osservare ciò che chi sta davanti a lui fa, nel bene e nel male, perché a un certo punto arriverà anche ad avere una capacità critica di dire questa cosa qui è fatta bene, quest'altra cosa qui è migliorabile o è fatta male, e progressivamente con tante tante ore di assidua, frequentazione del reparto, della sala operatoria, conoscenza dei malati, arriverà ad acquisire quell'esperienza che gli consentirà di portare avanti e migliorare anche le performance chirurgiche che adesso si fanno. Ecco, sentiamo, chiedo anche a Professor Landi cosa ne pensa di questa mia domanda. Sicuramente è una domanda molto attuale, c'è una certa riduzione di afferenza di giovani neonareati nelle scuole di specialità chirurgica, vuoi perché l'attività chirurgica è forse più pesante in termini proprio fisici, di impegno orario, di disponibilità, eccetera, vuoi anche per un incremento un po' di una certa conflittualità medico-legale che si sta sviluppando un pochino anche in Italia, se molto sviluppata in passato anche in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti. Penso comunque che il fascino di determinate specialità, fra le quali ovviamente annoverò la neurochirurgia, sia molto forte e devo dire che i ragazzi, i nostri giovani, specializzanti, Padova è sede di un'importante scuola di specialità, i nostri giovani che lavorano nel reparto mio e nel reparto del Professor Chioffi, sono veramente molto motivati, sono veramente dei bravi ragazzi, ci possiamo permettere di dire, nel senso che sono motivati e imparano rapidamente a sopportare bene il carico di lavoro, il carico anche emotivo. È notevole da quello che è. Certo, proprio controllare anche il carico emotivo e come diceva anche il Professor Chioffi, anche la capacità di gestire bene il rapporto con il paziente. Quando si parla della scelta di andare in altri paesi, la fuga dei famosi cervelli, ecco, l'importante è che sia arrestata, ci riteniamo questi cervelli. Io penso che l'Italia non abbia, la scuola italiana, la scuola medica italiana in tutte le sue declinazioni non abbia nulla da invidiare ad altre scuole mediche europee e neanche d'oltre oceano, anzi, in termini di preparazione molti nostri giovani non a caso sono molto apprezzati quando ahimè vanno all'estero. Stiamo assistendo a un certo flusso di ritorni, insomma, i cosiddetti cervelli di ritorno sono forse più numerosi di quanto possa sembrare, di quanto venga l'attenzione dei media, eccetera. C'è un certo ritorno di giovani che tornano in Italia dopo magari aver fatto esperienza. Sono ottimisti allora, ecco. Io sono ottimista. Perfetto, bene. Allora, cari telespettatori, questa sera vi ricordo 049-7800-204 e 342-533-9744 per i vostri messaggi. Professore, disturbi del movimento, epilessia farmaco resistente, poi Parkinson abbiamo detto. Allora, non solamente la cura con il farmaco, perché quando vai dal medico farmaco, invece no, si può agire anche in maniera diversa. Voi state proprio studiandoci e questa sera ci farà vedere delle slide per farci comprendere meglio. Vediamo, Davide, se sei così bravo che così segui il professore che ci parla bene nello specifico. Prego, professore. Sì, mi dà la prima slide che spiega un pochino. Sì, come vi dicevo, è una branca particolare della neurochirurgia che non è presente in tutte le neurochirurgie italiane e lo stesso vale, insomma, a livello anche globale, insomma, del pianeta. A Padova si è voluta introdurre questa specialità, chiamiamola così, negli ultimi anni. Io vengo infatti da un'altra sede e direi con la volontà soprattutto del professor D'Avella, che è il direttore della parte neurochirurgica universitaria della nostra scuola e anche del professor Corbetta, che è stato pure già vostro ospite. Ci ha affascinato con il mondo del cervello delle neuroscienze. Le ordinarie di neurologia, insomma, direi proprio sotto il loro impulso, abbiamo aperto un pochino questa attività anche a Padova. È un'attività che appunto si rivolge a delle patologie neurologiche che però sono molto frequenti. Se mi dà la prima diapositiva c'è un piccolo elenco, no? Quella prima ancora. Quella prima, Davide. Ecco qua, insomma. Eccola qua. Questi sono sostanzialmente i grandi campi di interesse della neurochirurgia funzionale, trattamento di quelli che vengono chiamati disordini del movimento, che sono, tutti lo conosciamo, soprattutto la malattia di Parkinson, che è purtroppo molto frequente e sta diventando sempre più frequente, soprattutto fra i giovani. Assistiamo ad una fascia di esordio di età intorno ai 40 anni di una malattia che prima pensavamo fosse confinata solo nell'età più avanzata. Le distonie, che sono molto più rare del Parkinson, ma sono delle malattie altamente invalidanti dal punto di vista motorio, soprattutto se colpiscono i bambini. Ci sono una grande quota di distonie infantili. E poi il tremore, il tremore essenziale, che anche esso può essere molto invalidante. Questo è un grosso capitolo. E poi c'è l'altro grande gruppo di malattie che è caratterizzato dall'epilessia, cosiddetta farmacoresistente. Cioè l'epilessia che, come diceva lei, Nicoletta, non è controllabile, non è adeguatamente controllabile con i farmaci. E qui ci sono diverse possibilità chirurgiche per aiutare questi pazienti. Perfetto. C'erano altre slide da vedere insieme? Beh, poi possiamo iniziare a parlare un pochino specifico di queste patologie. Sì, ecco. A me interessa soprattutto l'epilessia perché so che ci sono tantissimi telespettatori, già quando l'abbiamo affrontata con le vostre colleghe dell'altro reparto, sempre dell'advento ospedaliera, ci hanno chiamato in molti. Ecco, l'epilessia preoccupa parecchio perché soprattutto anche per una giovane donna insomma è un aspetto un po' inconveniente, ecco, se vogliamo chiamarla così. Più che un inconveniente. Niente preoccupa. È un qualche cosa che condiziona moltissimo la vita, la qualità della vita. Sì, io vi ho iniziato parlando un po' di malattie e disturbi del movimento, ma se volete possiamo andare avanti con le diapositive. No, volevo dire solo due parole sul Parkinson, forse può interessare anche questo. Noi pensiamo al Parkinson come proprio al paziente che ha il tremore, che ha le difficoltà di movimento, ma è una malattia molto più complessa. È proprio una malattia del cervello. I neurologi sapevano spiegarlo meglio di me, sicuramente. E noi possiamo intervenire con questo tipo di chirurgia per alleviare i disturbi delle forme di Parkinson più avanzate, laddove il paziente non riesce proprio più a controllare la malattia con le sue medicine. E dicevamo, siccome ci sono pazienti che esordiscono a 40 anni, sono persone che arrivano a 50 anni, a 60 anni, quindi in un'età ancora cosiddetta produttiva, che hanno, che hanno questo grosso problema di controllare la malattia. In questo caso si può utilizzare questa metodica di stimolazione cerebrale profonda, che si chiama DBS, un acronimo inglese, Deep Brain Simulation, che consiste nel posizionare degli elettrodi, in genere sono una coppia di elettrodi che li vedete in questa diapositiva in mano, questo ipotetico chirurgo, sono questi piccoli bastoncini, che vengono posizionati all'interno del cervello del paziente, in sedi particolari, in quelle sedi danno una stimolazione che modifica l'attività cerebrale di questi nuclei che sono coinvolti nella genesi dei disturbi del Parkinson e i disturbi del Parkinson si riducono a volte in maniera veramente drammatica. Ci sono pazienti che riescono a abolire addirittura la terapia medica, la terapia farmacologica, perché funzionano, diciamo così fra virgolette, passatemi il termine, bene con la sola terapia chirurgica. Anche qui una procedura chirurgica complessa che necessita dell'utilizzo di macchinari vari, di software, di pianificazione, eccetera. Vedete c'è la possibilità di fare prima una pianificazione proprio anatomica, cioè vedere dove andare con i nostri elettrodi. Poi una volta che gli elettrodi sono posizionati nel cervello durante l'intervento c'è tutta una fase di registrazione dell'attività del nostro cervello e attraverso le informazioni che otteniamo da queste registrazioni siamo in grado di stabilire il posizionamento più accurato possibile di questi elettrodi, che è cruciale il posizionamento per avere dei risultati ottimali, questo è evidente. Quindi insomma è un intervento molto complesso che necessita di anche tutta una complessità tecnologica che però siamo riusciti a ottenere e a mettere in piedi nel migliore dei modi anche qui a Padova. Per i malati di Parkinson che fossero adesso all'ascolto e che magari hanno visto queste cose e volessero mettersi in contatto con il vostro reparto, possono farlo? Cioè c'è bisogno prima di un'indagine ovviamente? No, assolutamente, sì possono farlo assolutamente, noi abbiamo un ambulatorio al martedì, se può interessare, gestito dai colleghi neurologi, la professora Antonini in particolare che si occupa di queste cose, che fanno tutto lo screening preoperatorio perché non tutti i pazienti sono candidabili diciamo all'intervento, però sicuramente molti lo sono, sono sicuramente sottostimati al momento attuale, cioè ci sono molti pazienti che potrebbero beneficiare di questo intervento ma che non vengono avviati all'intervento per un motivo o per l'altro. Ecco, due domande. Allora, la debolezza della metà del corpo, disturbo del linguaggio, il cambiamento della vista, la difficoltà a leggere, mal di testa e crisi anche epilettiche possono far sorgere il dubbio che si può avere un tumore? Chiedono e poi altra domanda. Buonasera, vorrei sapere, dato che non è possibile lo screening, se c'è qualcosa che si può fare per prevenire il tumore al cervello o dovremmo rassegnarci a scoprirlo sempre troppo tardi e così moriamo tutti? Grazie Maria. Per quanto riguarda rispondo... Fate voi. Allora, io rispondo alla prima domanda. Certo, i sintomi e i disturbi che sono stati elencati richiedono l'esecuzione di una risonanza magnetica dell'encefalo perché è una disregolazione di funzioni importanti, motorie, linguistiche, visive, oltre alla cefalea che è un sintomo di per sé specifico ma se abbinato ad altri sintomi e segni clinici una risonanza magnetica va sicuramente fatta. Subito la risonanza, non la TAC. Fra l'altro la TAC sono radiazioni, la risonanza magnetica è assolutamente priva di qualsiasi aspetto negativo. Perfetto. Mentre cosa rispondiamo con l'altra domanda della prevenzione? Ecco, come si diceva prima, una prevenzione a tappeto, su larga scala, per quanto riguarda i tumori cerebrali è improponibile perché si basa su esami complessi e soprattutto anche molto costosi. Più che una prevenzione, qui forse si tratta di un'attenzione. Ecco, il paziente che dovesse avere dei disturbi neurologici tipo disturbi della sensibilità, formicoli, difficoltà al movimento, disturbi alla vista, cefalea persistente, eccetera, va beh, lo si invita ovviamente a rivolgersi presso un ambulatorio di neurochirurgia o anche di neurologia in assenza di una neurochirurgia nelle immediate vicinanze per fare una visita clinica che poi è quella che deve guidare poi tutto il successivo iter e poi si deciderà di fare il successivo esame. Anche perché, correggetemi se sbaglio, spesso e volentieri i tumori al cervello sono dei tumori secondari perché magari hanno la derivazione dal tumore polmonare o tumore al seno, è corretto? Sì, il cervello è sede di metastasi da altri organi, mentre i tumori cerebrali hanno la caratteristica di non andare altrove, di non metastatizzare. Sono molto preoccupati da quello che ho capito i nostri telespettatori di queste cose, quindi noi ne parliamo proprio perché è importante poi insomma farvi capire bene anche a casa queste cose. Ecco, poi abbiamo detto che ci sono anche mal di schiena, ernie discale. Altra nota dolente per i telespettatori perché tutti si lamentano di mal di schiena, ernie. Il neurochirurgo qui che cosa fa? Il neurochirurgo deve intanto valutare bene il paziente prima di decidere che è da operare perché lì è il primo step, secondo me quello più importante, cioè formulare una indicazione chirurgica. Successivamente deve scegliere per quel paziente, per quel determinato caso, la tecnica operatoria più adatta. Da questi due addendi ne deriva gran parte del buon risultato chirurgico. Quando si interviene? Si interviene quando c'è non solo un disturbo funzionale come può essere il mal di schiena, una cervicalgia, ma soprattutto quando c'è una compressione neurologica, quindi quando c'è un coinvolgimento o di una radice nervosa o a maggior ragione del midollo spinale. Allora in questi casi l'intervento è assolutamente necessario. Oltre all'intervento chirurgico, o meglio prima di arrivare all'intervento chirurgico, ci sono altre terapie da fare, in particolare la fisiochinesi terapia che spesso e volentieri può risolvere una determinata situazione. Vale la pena ricordare che qualsiasi patologia può avere anche le caratteristiche di un'urgenza, anche un'ernia discale, sebbene l'ernia discale possa anche guarire da sola. Quindi c'è tutto il contrario di tutto. Bisogna saper cogliere quali sono i casi che necessitano di una immediata terapia chirurgica e quelli che invece hanno semplicemente bisogno di un periodo di osservazione per vedere se la sintomatologia si risolve da sola e successivamente poi intervenire. Ecco, ci dicono se voi vi occupate anche di gravi incidenti che subiscono moto, bici, un ragazzo dice ho avuto un incidente col parapendio e mi sono messo, ecco, struttumato. Sì, purtroppo la traumatologia sia cranica che vertebro midollare è una costante quotidiana presenza nel nostro reparto. Questo è anche un grosso impegno perché le urgenze vanno purtroppo a sconvolgere l'attività programmata creando ritardi, creando poi disfunzioni, a volte anche malumori nei pazienti che si vedono il proprio intervento rinviato. Però questa è la situazione, bisognerebbe cercare di diversificare i percorsi dell'urgenza dall'elezione in modo tale che le due tipologie, le due situazioni chirurgiche non si intralciassero e facessero lo sgambetto l'una con l'altra. E chiaramente di fronte all'urgenza, l'urgenza ha la priorità sull'elezione. Certo, certo. Prima anche di chiedervi un po' come avete vissuto, diciamo, il periodo della pandemia, come avete lavorato, come è stata un po' l'organizzazione del vostro reparto, tutta l'organizzazione un po' dell'ospedale. È stata un po' raccontata dai vostri colleghi che si sono succeduti, perché è da parecchi anni che facciamo questo programma, negli ultimi due anni insomma abbiamo lavorato anche noi, anche via scatto, ma comunque siamo sempre riusciti ad entrare nelle vostre case proprio con la medicina. Però mi diceva Chiara di approfondire questa cosa dell'epilessia. Vogliamo dire qualcosa di più allora, professore, sull'epilessia? Sì. Ecco che non abbiamo detto, per poi approfondire anche come state lavorando ora, come avete lavorato, se vogliamo dare qualche input anche ai nostri telespettatori che magari non vogliono magari vaccinarsi, eccetera, perché sentiamo un po' di tutto in giro, quindi voi che poi siete medici, quindi volevo anche un messaggio anche da parte vostra. Prego. Sì, torniamo sull'epilessia che è l'altro grande capitolo della neurocurgia funzionale, se vuole ci sono anche qui delle slides, se volete trasmetterle. Un 30% dell'epilessia colpisce numerosissime persone in Italia, insomma attualmente si pensa che ci siano più di 600.000 persone sicuramente che ogni anno sviluppano. Sempre più giovani se non ero, vero? Soprattutto giovani, soprattutto giovani e una stima abbastanza realistica ci dice che almeno un 30% di queste persone non riescono a controllare adeguatamente la loro epilessia con i farmaci e una parte di queste persone potrebbero, possono andare incontro a delle soluzioni chirurgiche della loro epilessia. Ovviamente prima di giungere a definire se un paziente potrà essere, potrà beneficiare dell'intervento, bisogna fare tutta una serie di esami, elettroencefalogramma, l'avete visto nelle diapositive precedenti, studi di imaging con la risonanza magnetica. A Padova abbiamo la possibilità di fare una risonanza magnetica accoppiata ad una PET scan, cioè la possibilità di avere sia immagini anatomiche che immagini funzionali di quello che sta succedendo nel nostro cervello, uno strumento che c'è a Padova e in pochi altri centri al mondo e che ci aiuta moltissimo nella diagnosi prechirurgica di questi pazienti. Laddove è necessario si possono fare anche degli studi cosiddetti invasivi, cioè andare a registrare l'attività del cervello direttamente sulla cortesia cerebrale, come vedete in questa diapositiva sulla sinistra, o con degli elettro di cosiddetti di profondità che vengono inseriti con una particolare metodica proprio all'interno del cervello. Tutto questo per definire adeguatamente l'area di insorgenza e di eventuale propagazione della scarica epilettica, definire cioè il cosiddetto focus epilettogeno, che poi andrà operato sostanzialmente e il tipo di intervento che si può fare è un intervento di microchirurgia simile a quelli che si fanno per esempio per rimuovere dei tumori cerebrali, dove andremo a rimuovere non un tumore ma quella parte di cervello del paziente che funzionalmente non è più utile al paziente ma anzi genera l'epilessia. La rimozione di questa parte di corteccia cerebrale generalmente epilettogena può portare alla guarigione del paziente e questo è un tipo di trattamento che si può fare. Se non si riesce a identificare un focolaio ben preciso e quindi non si sa letteralmente dove andare a operare, si possono fare altri tipi di trattamenti e uno molto interessante è la cosiddetta stimolazione del nervo vago, anche questa ha un acronimo VNS, Vagal Neural Stimulation, c'è una diapositiva se volete la si può far vedere, in cui facendo un intervento extracranico, cioè andando a posizionare un elettrodo, lo vedete, con le specie di spirali in alto sulla destra della diapositiva attorno al tronco del nervo vago al collo, si stimola il nervo vago e con un complesso meccanismo questa stimolazione porta ad una riduzione del rischio di avere le crisi. In questo caso non si ha una risoluzione del 100% delle crisi epilettiche ma comunque nella maggioranza dei casi, soprattutto se pediatrici, si ha un buon controllo dell'epilessia. Quindi anche nei confronti di questa malattia che ha un'incidenza sociale direi insomma molto importante, la chirurgia può venire incontro ai casi più apparentemente più disperati, apparentemente più difficili da trattare. Ecco, leggevo anche, professore, che lei ha eseguito anche un intervento per raggiungere la leoprasia nel cervello con una biopsia cerebrale eseguita con braccio robotico. Con un robot, sì. Comunque ci puoi spiegare questa cosa di un signore che aveva 54 anni affetto da un tumore cerebrale? Sì, sì, sì. Ebbè è l'applicazione della robotica alla neurochirurgia, una cosa che anni fa mi lasciava un pochino scettico, vi confesso. Devo dire che poi avendo provato questa possibilità tecnica ne sono rimasto affascinato. Il robot non è che faccia tutto lui, ovviamente, per carità. Il robot aiuta nel senso che rende più preciso ancora e più rapido il gesto chirurgico. E quindi, per esempio, in interventi nei quali è necessaria un'estrema precisione, l'ausilio del braccio robotico può sicuramente essere interessante. Ecco, non in tutti gli interventi, ma sicuramente con indicazioni precise può essere realmente utile. C'è da chiedersi quali saranno le nuove frontiere? Che cosa arriverà, professore? Voi che poi andate a questi convegni, vi parlate, eccetera. Che cosa troverà il paziente del domani? Ecco, ancora nuovo, tutto in 3D. Cosa succederà? Nelle sale operatorie cosa troveremo? Ecco, c'è da chiedersi. Sì, ce lo chiediamo perché è una scoperta che faremo di anno in anno. Sicuramente i materiali saranno una grossa fetta del futuro, non solo nel nostro settore, ma in tutti. E poi la robotizzazione, come aveva detto il professor Landi, che è già una realtà, basti pensare che ci sono dei robot che nella chirurgia, soprattutto vertebrale, consentono di posizionare determinati mezzi di fissazione, come le viti nelle vertebre con precisione assoluta e quindi evitare spiacevoli conseguenze per il paziente, reclami, pretese risarsitorie medico-legali. E la mappatura, questa mappatura che sento, che leggevo, che ho parlato ogni tanto di questa mappatura, cosa significa? Che andate a sezionare la parte dove andrete a operare? Il mappaggio cerebrale è una parte dell'intervento chirurgico che facciamo prima di procedere all'asportazione di una lesione. E viene fatto attraverso delle stimolazioni sulla corteccia cerebrale e stimolazioni che poi possiamo utilizzare anche quando siamo nella parte sottocorticale. Poi, dall'esperienza di tutte queste informazioni e conoscenze che man mano ognuno di noi assimila e condivide, scopriremo molto di più su quella che è l'organizzazione e il funzionamento del network cerebrale di cui ancora oggi sappiamo poco, conosciamo l'anatomia e anche quella è molto complessa e qualche volta si scoprono cose nuove, ma soprattutto la funzione cerebrale, la funzionalità del nostro sistema nervoso è ancora un settore da scoprire. Per questo così affascinante, ci dicono anche i nostri telespettatori. Dicevamo allora, periodo della pandemia, ecco, cosa avete organizzato, come eravate organizzati il professore nel vostro reparto, che cosa poi è successo e adesso insomma siete rientrati nella funzionalità piena, ci vuole raccontare, a pieno regime? Adesso siamo in piena funzionalità. È stata molto più pesante la seconda e la terza ondata di pandemia come impatto sulla nostra attività rispetto alla prima, perché? Perché nella prima fase c'era un lockdown assolutamente completo e quindi la traumatologia cranica e spinale, che come dicevo prima affligge quotidianamente e pesa sul nostro reparto, si era sostanzialmente azzerata. E il motivo è ben chiaro perché la gente non circolava in macchina, in moto, in bicicletta, non andava a far rampicate o si esponeva a rischi. Paradossalmente erano diminuite anche le emorragie cerebrali e gli ictus. Quindi questo ci ha consentito con una severa e stretta organizzazione e filiera di mandare avanti la terapia, gli interventi, la chirurgia elettiva. Tant'è che alla fine dei conti noi abbiamo fatto più interventi per tumore cerebrale nell'anno della... Addirittura. Sì, perché la traumatologia e tante urgenze non erano, si erano azzerate nella prima fase. Noi poi abbiamo una situazione, dico noi come neurochirurgia, abbiamo una situazione secondo me privilegiata nell'ambito dell'azienda sanitaria perché siamo ubicati in una palazzina che è separata dal resto dell'ospedale. Quindi è un padiglione dove c'è la neurochirurgia, c'è la neurologia, la neuroradiologia e la neurorianimazione. Per cui è stato più facile tenerla isolata ed evitare che venisse contaminata, sebbene qualche foccolaietto c'è stato. Nella seconda invece terza ondata pandemica la gente circolava, quindi le urgenze continuavano ad arrivare e è stato veramente uno stress test per il reparto notevole. Qui devo dire che ha retto grazie all'abnegazione, allo spirito di sacrificio di tutto il personale del comparto, del personale che gestiva l'organizzazione dei ricoveri e la programmazione dell'attività chirurgica. Adesso speriamo di esserne fuori e di non ricaderci a settembre-ottobre. Parlano a ottobre, sentivo Bassetti, ogni tanto mi terrorizzo quando sento Bassetti, aspettatevi ad ottobre, mamma, speriamo bene dai, non tenere le dite incrociate perché veramente a volte spaventano questi virologi in pubblico penso a casa, sono bisogno di andare un po' con calma. L'importante è la vaccinazione, vero professori? Assolutamente. Ecco questo, invece mi sa che ultimamente ci sono molte persone che non fanno la vaccinazione. Detto questo, ho due domande, mi chiedono ma la neurochirurgia funzionale potrebbe essere di utilità per gli anziani e anche per quelli che sono malati di Alzheimer? Alzheimer? Questa è una domanda da porre e poi mi dicono la ricerca, ci vorrebbe un intervento anche dei privati nel campo della ricerca medica e biomedica e invece si stenta a sollecitarlo? Spesso non c'è la convinzione necessaria, tanta ricerca e anche noi andremo meglio. Quindi vado da professor Landi e professor Chioffi, prego. Riguardo all'Alzheimer, sì, ci sono stati e ci sono dei trials di valutazione se appunto la stimolazione cerebrale profonda, quella di cui parlavamo prima a proposito della malattia di Parkinson, possa in qualche modo aiutare anche nell'Alzheimer. La cosa forse più interessante sono due trials, uno in Canada e l'altro in Germania, che hanno dimostrato la possibilità di ridurre i disturbi di memoria che caratterizzano le fasi iniziali dell'Alzheimer, dando sostanzialmente un po' di sollievo a questi pazienti per un periodo di alcuni anni, insomma, nella fase iniziale della malattia, mentre invece nelle fasi più avanzate della malattia, al momento onestamente non sembrano esserci degli spazi chirurgici. Il tutto è rimasto però ancora a livello un pochino sperimentale, diciamo così. Perfetto, mentre la ricerca, ecco questa, è fondamentale per proseguire nel campo medico e non solo? Assolutamente, assolutamente sì, però la ricerca non è una parola così buttata lì, la ricerca perché sia una ricerca efficace, perché i soldi della ricerca abbiano un ritorno pratico, effettivo, una ricaduta positiva, richiede un'organizzazione, una struttura molto ma molto importante. Forse noi qui in Italia siamo un po' carenti da questo punto di vista, mentre altrove la struttura è più efficiente, è più strutturata. Lei invidia qualcosa in qualche altro paese, in qualche struttura che le piacerebbe, non so, o portare qualcosa a Padova che ha visto in altre situazioni? Cioè, c'è qualcosa che mi piacerebbe avere questa cosa, ecco. È il tempo tra il dire e il fare, cioè tra il desiderio, tra la cottura di un'idea che uno ha visto ed essere un'idea assolutamente vincente, un'idea efficace, pratica, utile per la salute del paziente, è il acquisirla e il metterla in pratica. Questi tempi purtroppo sono infiniti. Anche perché c'è un protocollo, le linee di guida, una burocrazia. C'è una burocrazia notevole e lì noi siamo troppo lenti, lì bisogna cambiare veramente marcia, bisogna calarsi nella realtà dei problemi e risolverli tempestivamente. Ecco, quindi anche una parte politica dovrebbe aiutare il mondo del medico, dovrebbe snellire, dovrebbe, visto poi abbiamo la possibilità, noi viviamo in questa splendida regione Veneto, già la regione Veneto fa molto, però si può fare sempre di più. Ecco, detto questo, cosa dobbiamo dire? Ecco, progetti futuri della neurochirurgia di Padova, questo fiore all'occhiello che abbiamo qui, cosa vogliamo dire? Progetti? Intanto diciamo che noi vogliamo cercare di curare sempre meglio i nostri pazienti. Io dico sempre che la qualità di un reparto si vede quando almeno il 90% della patologia che deve andare bene, quindi la patologia diciamo di routine che deve andare bene, va bene. Perché se una patologia di routine hai il 50% di complicanze o di interventi che non va bene, c'è qualcosa nel reparto che non funziona. Poi dobbiamo cercare di acquisire nuove tecnologie, di spingere la nostra attività laddove altri sono già arrivati, in modo da dare delle risposte sempre più efficienti ai nostri cittadini. È importante anche fare rete con gli altri colleghi, professor Landi? Eh beh, sì, direi che è basilare. Sicuramente, ecco io arrivando a Padova per esempio, ho apprezzato fin da subito il grosso network, veramente, che c'è sia a livello ospedaliero che a livello universitario, ovviamente, che ha delle potenzialità enormi. Il problema è che purtroppo queste potenzialità spesso non sono, come dire, liberate nella loro totalità e quindi ci si trova a essere un po' frenati da, un po' dalle cose che diceva prima il professor Chioffi, cioè soprattutto, devo dire, la burocrazia, che non è solo un problema di Padova, sempre in chiaro, un problema nazionale, la medicina e le malattie corrono più veloci della burocrazia. Dobbiamo essere pronti a dare risposte valide e rapide in tempi adeguati. e questo non sempre è possibile purtroppo. L'obiettivo, professore, è la qualità di vita del paziente, che abbia una malattia importante o meno importante e comunque sempre garantire l'aspetto della qualità di vita per voi medici, penso sia la regola numero uno. Sì, è la regola numero uno rispetto della persona che ci porta il suo corpo, il suo problema e che si chiede una soluzione. Noi per prima cosa dobbiamo portare rispetto a questa persona, capire quali sono le sue esigenze, le sue necessità e cercare di risolvere nel migliore dei modi il problema che affligge questa persona. Ben detto, ben detto. Allora, cari telespettatori, siamo arrivati al termine prima di salutare e ringraziare i nostri ospiti, come vi avevo già anticipato, è molto affascinante parlare appunto della neurochirurgia. Dobbiamo ricordare Antonio Ranalli che partecipò da noi qualche anno fa perché appunto ci chiesero all'epoca di parlare del massaggio, ma noi siamo andati proprio a prendere una persona competente. Pensate a questo signore Antonio Ranalli, scomparso prematuralmente la settimana scorsa, era litolare di una prestigiosa accademia, una scuola in Ayurveda di massaggi di Padova e aveva approfondito proprio la sua conoscenza già alle tanti 15 anni. Pensate, lui andava a conoscere quello che era tutto il mondo del massaggio, poi l'ha approfondito in Cina, in Tailandia, in India, in Tibet e ha pubblicato anche dei libri. E ha, pensate, collaborato con l'ospedale pediatrico di Padova, dove per 10 anni ha applicato le tecniche di riflessologia plantare sui piccoli ricoverati. Quindi pensate alla bravura di questo signore che noi abbiamo avuto il piacere di ospitare con noi, Antonio Ranalli. Mordo prematuralmente all'età di 60 anni la settimana scorsa, l'abbiamo saputo in ritardo, però volevo ricordare perché fa parte appunto di quelle persone che in questi anni hanno partecipato e hanno sempre arricchito la nostra trasmissione, sono arrivati a casa, a voi proprio con le loro nozioni e vi hanno anche aiutato a comprendere, a capire perché il massaggio è importante e deve essere fatto anche dalle persone che ne hanno la competenza. Adesso vediamo se riusciamo almeno a vedere un attimino l'immagine, ecco questa è una cosa appunto di qualche anno fa, eccolo qui, con la figlia, con Antonio Ranalli, facciamo le condoglianze alla famiglia, mancato prematuramente all'età di 60 anni, un vero esperto proprio in questa materia, per quello l'abbiamo chiamato, perché noi naturalmente ci mettiamo la faccia e quando ci sono persone che arrivano qui sono sempre preparatissime. Ecco allora, un buon viaggio anche ad Antonio Ranalli, eccolo qui, era doveroso da parte mia perché avevo partecipato in questa trasmissione. Detto questo, cari telespettatori, l'appuntamento finisce qui, ringraziamo il professor Franco Chioffi, grazie professore direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, grazie, e poi il professor Andrea Landi, responsabile della Neurochirurgia funzionale, un'unità operativa complessa dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Grazie a voi. Cari telespettatori.